Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Come ogni domenica, fissi e regolari, noi, il professor Guglielmo Cevolini, docente all'Università di Udine e tra l'altro è fondatore di storia, posso dirlo, fondatore anche tra virgolette della filiale Limes in Friuli, Venezia Giulia, non dico nulla di strano. War and Love. Ai miei tempi si saliva sui palchi, io tra l'altro dicendo Peace and Love, perché c'era la guerra in Vietnam. La scritta è War and Love, perché? Perché proprio nella giornata di venerdì, oggi è domenica, venerdì in Svezia i Nobel per la pace sono stati designati per Bialiansky, bielorusso, e alle ONG, una russa e una ucraina. L'Occidente ha, anch'io ho detto, mi sembrava doveroso anche in questi momenti. L'Ucraina no, contraria. La Russia contraria. Un premio per la pace che rischia di inasprire ancora di più la guerra. Se noi pensiamo poi che nella giornata tra venerdì e sabato è stato fatto saltare il ponte che congiunge la Crimea alla Russia, è saltato un tir, creando problemi viari, ma che sono stati subito risolti nell'arco della giornata. E Kiev si è intestato il tutto grazie ai suoi 007. A me pare che, e lo dico al di là di ogni retorica, voi sapete come lo penso sin dall'inizio, però non si può continuare a tirare la corda facendo in qualche modo indispettire poi l'avversario. Perché se poi, io ho una scritta in indice, proprio sul mio braccio, ce l'ho qui, in indice, che dice quando il leone dorme continuano a farlo dormire. Il volere invece continuare a dire siamo bravi, siamo qua, siamo là, e poi firmare anche un decreto, quello mi ha indispettito molto a me, che sapete come la penso, dicendo io non firmerò mai la pace. Divieto, divieto di trattative. Allora hai capito che questo esce dai canoni a cui siamo abituati, no? Perché se l'americano di allora, presidente, firmava il decreto che non avrebbe mai siglato una firma con l'imperatore giapponese, o viceversa, gli Stati Uniti avrebbero, o l'Italia avrebbe firmato, no? Un decreto, diciamo, reale, perché c'era il re che non avrebbe mai firmato un ammistizio e quant'altro, dove andiamo a finire? Mi pare che stiamo un attimino travalicando le sue, diciamo, naturali dotti questo signore. No, è che tutti stiamo andando verso una continua escalation, che infatti rischia poi, come vedremo più avanti, un po', di portare anche a rischio nucleare. Ma, secondo lei, crede proprio ad un possibile rischio nucleare? Io non penso, sono convinto, anziché, non ci sarà l'armageddon di cui parla Biden. Allora, il nostro direttore è nella versione... Oggi dice una cosa, dopo 7 minuti e 33 secondi la portavoce della Casa Bianca lo smentisce, no? Cioè, capisco, ad una certa età bisognerebbe rimanere a casa seduti, avere i nipotini e accarezzare la testa, non fare il Presidente degli Stati Uniti d'America. C'è una parte della... Al limite dell'Italia, ma non degli Stati Uniti d'America. C'è una parte dei grandi giornali internazionali che interpreta proprio le questioni come le sta interpretando il nostro direttore, cioè alle dichiarazioni orali, così a braccio di Biden. Durante la campagna elettorale, perché lui sta cercando... Siamo in campagna elettorale, ovviamente, a novembre si vota, però comunque non c'è da credere. Altri hanno fatto riflessioni di questo tipo. Allora, l'analisi dei discorsi ultimi di Biden. Allora, torniamo indietro, 24 febbraio, prima Biden diceva, abbiamo evidenze dell'intelligence che ci sarà l'attacco. Nessuno, neanch'io, ci ho creduto. Perché non eravamo abituati a due cose. Primo, al fatto che l'intelligence americana vuotasse il sacco, dicesse tutto quello che aveva. E secondo, ci sembrava impossibile che Putin attaccasse... D'accordo, apro una parentesi. Questa volta hanno centrato in Iraq. No, perché in Iraq abbiamo attaccato e siamo morti anche noi italiani con delle bugie grandi che c'erano le armi di istruzione di massa mai trovate, se vogliamo dirla tutta. Però ecco, questo discorso di Biden era coperto da nuove dichiarazioni, nuove posizioni, nuove analisi dell'intelligence. Queste ultime di Biden, in realtà analizzandole, non sono basate come le precedenti su nuovi documenti, nuove ipotesi di intelligence, ma ha detto sulla base della sua esperienza. Quindi praticamente è un ragionamento, conosco la mia volpe, so che cosa succederà e così via e così via. Quindi sono da questo lato dichiarazioni da prendere... Non so neanche se conosce se stesso, figuriamoci se conosce. Da prendere un po' così, ecco. Però, 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 gli analisti dicono che sta crescendo il rischio. Sì, ma non dell'armageddon. Ci può essere il rischio di una bombetta tattica. Sì, il nucleare è tattico. Che esplode e crea problemi enormi nel raggio di 3-4 chilometri. Con il Follau, che poi può arrivare anche qui, la situazione è questa. La contaminazione... Poi faccio una domanda, perché, sai, il discorso è molto semplice, no? Ripeto, io sono per dire a Putin, basta, l'errore di invadere uno Stato sovrano è stato fatto. Se lui aveva le prove che il Donbass era sotto scacco delle forze nazi, ucraine, i vari battaglioni Azov e quant'altro, lui, che è una potenza all'interno dell'ONU con diritto di veto, doveva portare all'attenzione dell'ONU la situazione e dare all'ONU l'ordine perentorio, o voi intervenite o intervengo io. Però su questo in realtà ha fatto qualcosa al Consiglio d'Europa e l'hanno respinto. L'ONU, lui ha il diritto di veto, ma no, in Europa quanto conta Putin? Quanto contava prima con Berlusconi, ma del resto chi se lo seguiva? L'ONU, lui è uno tra quei paesi che ha il diritto di veto, è vero o no? Che può dire sì o no? Lui presentava, il suo rappresentante, un documento in cui denunciava quanto avveniva nel Donbass, quindi una cosa ufficiale, gli attacchi ai filorussi nel Donbass, alla minoranza, chiamiamola così, e metteva l'ONU in condizione di dire, bene, interveniamo con i caschi blu, perché il trattato a Minsk è stato firmato nel 2014. Da lì inizia poi la situazione. Però il nostro direttore sa, per esempio, che a fine settembre la direttrice, presidente dell'ufficio sui diritti umani delle Nazioni Unite, ha pubblicato poche ore prima della scadenza, un documento che diceva che gli uiguri sono in campo di concentramento per un milione di persone, con tentativi di... Sì, ma sa quanto contano quei commissari lì? Ma scusi, ma lei... No, è un ufficio delle Nazioni Unite. Ma sì, ma sa quanto conta quell'ufficio lì? Quell'ufficio lì aveva anche una onorevole che poi è diventata onorevole italiana, era quella che puntava il dito contro di noi perché non accettavamo gli clandestini. Quanto contano quegli uffici lì? Io sto parlando di vertice, professore, di vertice. L'errore che ha fatto Putin è di aver invaso uno Stato sovrano. Punto. Poteva avere tutte le certezze, tutte le posi... Non si deve, ovviamente... Ma è chiaro, no, quello è chiaro. Ah, scusi? Perché quello vuol dire... Vuol dire tornare a una situazione delle relazioni internazionali pre-Yalta, pre-Seconda Guerra Mondiale. Perfetto, però posso dire un'altra cosa e continuo a dirla, perché altrimenti ci prendiamo per i fondelli. E io non amo prendere per i fondelli nessuno, perché adesso nessuno riconosce l'annessione delle province del Donbass fatte dalla Russia dopo un referendum. Sì, però il referendum che è stato fatto sembra che sia stato fatto. Autoproclamato. Però il referendum... Nel Kosovo? Quel tipo di referendum... No, scusi, nel Kosovo? Nel Kosovo ci sono gli Stati Uniti. Ma... Dietro ci sono gli Stati Uniti. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che gli Stati Uniti non sono san marino alle Nazioni Unite. C'è stato un referendum, diciamo, unilaterale del Kosovo? Ha vinto il Sì e il Sì ha dato una Repubblica autonoma rispetto alla Serbia. Alla fine chi è stato il primo Stato a riconoscere il Kosovo? Gli Stati Uniti d'America. Lei lo sa meglio di me, perché è uno storico, che l'ONU non riconosce ancora il Kosovo. Sbaglio? Ecco. O no? Quindi vediamo quanta complessità c'è dietro l'attività delle Nazioni Unite. Io dico, adesso faccio una battuta, ma questa è una freccia nei confronti che il nostro direttore sa da che parte sto su questo versante. Per esempio, io ho degli amici pacifisti che dicono che Israele dovrebbe dismettere il proprio esercito e affidarsi alle Nazioni Unite. Ma neanche questo. Ecco, ecco, ecco. Quindi anche su questo versante anche Putin può darsi che non abbia tutta questa fiducia nelle Nazioni Unite. No, 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 attenzione che... Che poi Putin ha fatto una cosa... Attenzione che l'ONU... Attenzione, no, per dire ai suoi amici pacifisti, io sono pacifisti, dica a quei signorini lì che si informino, perché l'ONU con anche l'Italia sono al confine tra il Libano e Israele, tra il Libano e Israele, per mantenere la pace, perché dall'altra parte ci sono terroristi di Hamas che lanciano i razzi. Allora dica ai suoi amici... Anche il Libano, anche il Libano. Il Libano. Lanciano i razzi, allora hanno dislocato, hanno dislocato, ovviamente. La blusone, la blusone. Dica ai suoi amici che Israele... No, ma dica ai suoi amici... Io ho detto che... Ma dica ai suoi amici che se è sorto Israele come stato, è stato l'ONU a dare il via libera, anche con il via libera della Russia a quei tempi, che disse agli ebrei in Europa e quant'altro... Di andare... Di andare nella loro terra, ho sbaglio. Infatti è una componente di... Ho sbaglio. No, no, una componente di Israele. Infatti, allora, cos'è stato? Giovedì scorso con Franco Cardini si diceva che, per esempio, Franco Cardini era un po' critico... Mi guarda che è un po' di raffreddore... Franco Cardini era un po' critico nei confronti di questa... Cioè, di riconoscere alla Ucraina un pieno ruolo di democrazia, quanto, insomma, c'era qualche... Lui poneva qualche dubbio. Però ha ricordato, perché Franco Cardini è andato a lavorare in un kibbutz al momento in cui nasceva Israele, e lui non è... Cioè, militare, l'ha fatto in maniera... Nell'aeronautica, ma non è che ha fatto un militare come il nostro direttore artigliere di montagna, ecco. E però ha fatto il suo servizio militare anche nei kibbutz, perché nei kibbutz si lavorava e in parte si doveva fare la difesa militare. Quindi ha fatto anche questo. Franco Cardini ha detto che l'unico esempio di nascita di uno stato, di una nazione, in così poco tempo c'è solo Israele. Ma i kibbutz, o i kibbutzin, erano vere e proprie comunità. E per quello è andato, per quello è andato Franco Cardini. Dove tutti lavoravano, tutti mangiavano allo stesso tavolo, quanto veniva guadagnato, veniva diviso in parti uguali, con tutti... Era un socialismo nazionale. Con tutti quelli che... ma riguardi che vicino al Mar Morto, andate, vabbè, bellissimo, ci sono anche lì, diciamo, dei kibbutz, dove c'è ancora queste comunità che lavorano la terra e via discorrendo. Io ho conosciuto anche quelle persone lì, ed sono le vere comunità, espressione, allora, diciamo, espressione di quel comunismo... Religiosa, della Bibbia, del socialismo... Comunismo antico, no? Socialismo, socialismo, secondo me. Perché il comunismo c'è la lotta di classe... Marx era socialista. Divise. Marx. Divide. Ha, mi pare, un background, Marx, no, vado a vedere anche le origini, sì, non è che... ma, dico, il problema qual è? È il problema che in Israele lo hanno fatto, in altre parti non riescono a farlo. Ma perché c'era un'unità religiosa, un'unità... era già un popolo, è questo il discorso, che era già un popolo. Il problema sta qua. Come noi europei non siamo, per esempio. Ma scusi. Mi scusi tanto, eh, perché io, visto che ne parliamo, were in love, io mi sono stancato, dico la verità, di sentire, no? Io sono europeista, e viva l'Europa... Ok, vai a dirlo a quei sommari che si sono ritrovati a Praga, tra una magnata e l'altra, e hanno perso... No, mi scusi, hanno perso tempo, perché non hanno trovato una idea, una idea che di fatto imponga agli stati membri, anzi erano più degli stati membri, erano 44, 48... Mi pare, il nostro amico Erdogan... Tutti dentro, va benissimo, non hanno trovato uno straccio di accordo per calmerare il prezzo del gas. E tra i fautori dei niente più... non c'era Orban, ma il tedesco, l'olandese, quello proprio rompe le scatole sin da quando c'era il PNR, con quella faccia che ride... E prima con la Grecia... Che ride sempre, no? Lo prenderei a schiaffi politici, ovviamente, ma lui ride sempre. Lui, la Norvegia, che non fa parte... E che guadagna parecchio volgassi. E che guadagna miliardi su miliardi, per non mettere anche l'Austria è contro al prezzo. Allora, vedete, quando qualche giorno fa... dovete sapere, io l'ho detto e continuo a dirlo, perché non ho visto tante persone che hanno letto o scritto, no? Qualche giorno fa, a Tarvisio, non arrivava più il gas. Russia... il gas... Veramente era l'Austria che non faceva sì che arrivasse il gas russo. E allora Lenin ha dovuto tirar fuori 20 milioni, una fideussione, alla Russia. È vero o no? No, allora... Ma è vero anche... Ragazzi, allora, ha capito... È vero anche che noi, in realtà è l'1% del nostro gas che addirittura esce dal territorio... Oggi e ieri Descalzi, sai cosa ha detto? Che l'amministratore delegato dell'ENI, no? Che dice, insomma, però anche lui sta guadagnando più di quello che dovrebbe guadagnare, e non mi pare che lo torni indietro allo Stato, no? Ha detto che non è tanto l'inverno 22-23... No, perché abbiamo le riserve. Ma sarà terribile l'inverno 23-24 se non riusciamo ad essere veramente autonomi. Allora, il nucleare di settima generazione, quello che si mette sotto terra, ci mancherà 4, 5, 6 anni, prima o poi che arrivi in niente. Per i rilassificatori abbiamo anche il sindaco di Piombino, va via con la bandierina, o quegli altri che fanno i no. Cosa volete? Cioè, ragazzi, se qua a San Vito Tagliamento, per mettere un termo valorizzatore, che darebbe positività a tutti, troviamo quelli che ci mettono... No, no, io non voglio. Però a Valvasone... A Valvasone c'è il sindaco Marcus Maumeier, che tra l'altro è il presidente della comunità linguistica friulana, che sarebbe disponibile. Lei vuole piantare la bandierina per dire... Qua, giammai, e poi il nucleare, giammai, però poi vai a prendere il nucleare e lo acquisti dalla Francia. Allora dovresti dire, no, non voglio il nucleare, perché io sono coerente. Ma siccome l'italiano, diciamocela tutta, coerente al 99%, non lo è, il giardino proprio pulito. Se poi lo fai magari a Valvasone, sei tu il primo che dici, anch'io, anch'io. Perché? E questo, noi non abbiamo nulla, professore. Cosa abbiamo? Lei, insomma, è un storico, è un docente, è storia, l'IMES. Oggi come oggi, noi, se non ci fosse l'Algeria, che non mi pare sia un paese, insomma, se non ci fosse l'Alzebagian, se non ci fosse la Libia... 40% adesso ci dà l'Algeria. Dove saremo? Ma comunque, su questa dimensione, basterebbe ascoltare il professor Clò dell'Università di Bologna, che ha fatto anche un libretto col sole 24 ore, dove spiega che cosa bisognava fare e che cosa bisognava fare prima anche. Oppure ascoltare il mio amico Alessandro Bianchi, amministratore delegato di Nomism Energia, che da quando lo conosco, cioè dall'Università, si occupa solo ed esclusivamente di energia in Italia, che ha 20 soluzioni possibili e le insegna anche nell'Università, eccetera, eccetera. Il problema è che, tra le varie cose che è accadute in nostro paese, è stata una... cioè, nella Prima Repubblica questo non sarebbe accaduto, perché certi tecnici così autorevoli, comunque, sarebbero stati ascoltati. Il problema è che oggi, un po' perché uno vale uno, un po' perché c'è una destrutturazione del mondo della conoscenza in generale, cioè, a partire dai licei, i nostri studenti non sono più abituati a scrivere un tema, non sono più abituati a leggere due facciate di un foglio a quattro e farci riassunto, e cose così semplici, perché c'è una resistenza da parte dei genitori che difendono anche nel torto i propri figli e impediscono ai docenti che vogliono fare il loro lavoro di insegnare veramente. Non si boccia più, non si... quindi, cioè, sta succedendo questo. Questo alle scuole superiori, alle scuole medie, e poi anche l'università si sta indebolendo la nostra capacità di avere delle buone lauree che poi quando vanno all'estero, purtroppo, perché qua non c'è lavoro, riescono ancora a ottenere un grande successo e arricchiscono i paesi di destinazione. Quindi c'è un paese che ancora, con poi il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, nella versione che si è ormai instaurata, cioè che alla fine, diciamo, si garantisce anche a chi non ha voglia di lavorare, e alla fine questo reddito, e non solo a chi non riesce a trovarlo, che è giusto. Ecco, quando si arrivano a queste situazioni dove io ho in mente ristoranti, imprenditori, alberghi del nostro nord-est, che quando vado, perché sanno come la penso, mi dicono, ah, io oggi chiuderò probabilmente la prossima settimana, due giorni alla settimana, chiudo, perché non ho il personale, devo pregare il personale che venga, perché comunque hanno già un reddito alla fine, sanno già che, e vogliono straordinari, vogliono cose, cifre incredibili. Cioè è un paese che sta andando malissimo, ecco, su questo versante. Però se noi prendiamo anche i giornali, no? Armageddon, fine del tabù atomico, questo, insomma, c'è il senior fellow del Hudson Institute, uno dei tic-tac di Washington, no? Peter Yussi, che dice, lo ZAR non ha paura di essere il cattivo del mondo, vuole vincere ad ogni costo, l'esperto in caso di attacco gli usi risponderanno sul campo, ma hanno già detto con le armi convenzionali, ma non ho capito. Allora, no, scusi, spieghiamo perché. Posso spiegare? Allora, il nucleare tattico è ancora sottoposto a dei trattati che sono stati messi nei magazzini ai tempi di Bush padre e di Gorbachev. Putin, per tirare fuori quelle armi tattiche nucleari, che sono meno della potenza di Hiroshima, che comunque non è uno scherzo, per tirare fuori quelle armi lì deve mandare un ordine alla 12esima divisione, al Ministero della Difesa, per far uscire quelle armi dai magazzini e caricarle o nelle navi o nei missili. Ma chi è questo? Questo Putin, Putin lo deve fare. Ah, certo, certo. Però, in tutti questi passaggi, poi le deve caricare, in tutti questi passaggi, dall'ordine, al farle uscire dai magazzini, al caricarle o sulle navi o sui missili. La gente si accorge? No, la gente, l'intelligence si accorge. Si accorge. La gente è quella da... Ecco, quelli che ne sanno si accorge. La gente non è il cittadino. Quindi, da quel momento lì in poi, che lui attiva veramente questa cosa qua, già Blinken ha detto che è da aprile che stiamo studiando i diversi scenari e siamo pronti a fare quello che deve essere fatto. E se le armi non sono ancora... sono già state tolte? Le armi sono già state tolte, ma devono essere caricate, anche se sono caricate nelle navi. Ma se sono già nelle navi, lei lo sa? Questo non si può sapere, ma l'intelligence americana lo sa. L'intelligence americana lo sa. Perché con i satelliti, con le cose, sanno tutto. Sto facendo l'avvocato del diavolo. No, no. Quindi, allora, il problema è questo, la reazione da parte degli Stati Uniti. Se si accorgono, come si sono accorti che Putin faceva l'attacco il 24 di... o il 24, quei giorni lì comunque, di febbraio, a quel punto avevano le evidenze. A quel punto, se hanno le evidenze che Putin usa il nucleare tattico, perché per il nucleare strategico è tutto informatico. Cioè, chi primo spinge il bottone, c'è il controllo e partono gli altri missili. Il nucleare strategico, chi primo spinge il bottone, comunque è tutto automatico. Non so se ha visto quel bellissimo film, dieci anni fa, no? Che era partito il conto alla rovescia, perché non erano riusciti, no? E alla fine c'erano, diciamo, da una parte e dall'altra, quelli che controllavano su questi megaschermi. Che dicevano che erano partiti i missili, no? E vedevi i missili che partivano dall'America verso la Russia e via discorrendo. E poi chiamavano le località e là dicevano, no, guarda che non è accaduto nulla. E da lì c'è un sospiro di sollievo, ma intanto il controllo era... Era partito e si vedeva quello che sarebbe successo bellissimo. Ma io sto dicendo questo, vede, quando dicevo prima delle repubbliche autoproclamate, sì, no? Putin ha firmato, Putin ha firmato, dicendo che quelle repubbliche che si sono... Sono territorio. È Russia, non è più Donbass, è Russia. La dottrina molte volte è sottolineata quando dicono, no, noi useremo il nucleare secondo la nostra dottrina. La dottrina, se lei va a leggersela... Che se mi attacchi il territorio... È bravo. Ma è ovvio che l'ha fatto per quello. Ebbè, ma nessuno l'aveva detto. Io l'ho detto, perché ho delle persone, insomma, inutile che stia qui. Ma c'è anche il fiuto il nostro direttore. E io avevo già detto un mese fa che una volta che si arriverà a filmare per decreto, e diventa Russia, perché così viene detto, è ovvio che nel momento in cui arriva qua... Perché hanno detto, non date le armi a lunga gittata come le voleva Zelensky, e in quel caso lo stesso Biden ha detto di no. Perché il primo missile che cade dall'altra parte, ne arrivano 100 o qua. Però lì, su questo versante del referendum, io sono sempre per il referendum della popolazione, eccetera, eccetera, ci sono state molte evidenze che il referendum è stato usato, sì, con addirittura, insomma, con i militari presenti, ecco, è stato realizzato su questo, per esempio, questo tipo di referendum, come per esempio quello catalano, e viene realizzato con gli osservatori internazionali. E furono, nostri osservatori internazionali, italiani, per esempio, Deanna e Saro, andarono a osservare come si votava, come si votava lì, in Catalogna, si votava... Ma ha visto che hanno fatto... E poi hanno fatto lo stesso. E hanno restati tutti, cioè hanno dovuto scappare all'estero anche il Presidente. Ma ecco perché bisogna avere la copertura internazionale delle grandi potenze degli Stati Uniti per autoproclamarsi come nel Kosovo. Io mi sono stancato ad ascoltare persone che dicono dobbiamo esportare la nostra civiltà, o la nostra libertà. La nostra libertà non la esportiamo in quei paesi dove non si può esportare. Ma parliamoci chiaro. Ma non è solo quello. Io non voglio esportare la mia libertà. Non siamo più credibili. O la mia cultura in altri paesi dove hanno un... Non pretendo e non voglio che vengano a portarla a me, la loro cultura, o la loro predisposizione a determinate situazioni. Basta! Però non ci filano più molti di questi Stati che dovrebbero aspirare alla nostra libertà. Perché secondo lei in Algeria c'è la libertà. Ma perché noi facciamo delle cose tipo... Ma secondo lei in Azerbaijan c'è la libertà e dove siamo andati a prendere il gas noi? È chiaro che non c'è la libertà. È come in Russia! Ma il discorso è che anche noi, democrazie, non siamo più credibili. Perché se ce ne andiamo dall'Afghanistan, come abbiamo fatto, dicendo... Quando siamo arrivati abbiamo detto alle donne afghane, non preoccupatevi, vi proteggeremo fino alla fine, eccetera, eccetera. E poi adesso burca e niente scuola. Cioè, signori, questa roba è... La stessa cosa un po' per l'Iran. In Iran, che sta succedendo quello che sta succedendo? In Italia ci sarà qualche piccola manifestazione... Ha visto la Boldrini... Io dico la Boldrini per dire... Ha visto Pinco Pallo inginocchiarsi in qualche piazza o in Parlamento? Come hanno fatto? Per quanti sono stati uccisi? O positivamente o negativamente? Non sono io che lo dico, sarà la giustizia americana. Ha mai visto lei inginocchiarsi questi signori e signore pronte a sbrodolare la loro idea, no? Per quanto sta accadendo in Iran? Silenzio assoluto. Ma non sono credibili. Non sono credibili. O sbaglio. Non sono credibili. Assurdante. Ma su questo ormai... Ormai anche le elezioni hanno detto la loro. Cioè, quando... Scusate, ma... E' un colpo di... E' un cross che arriva e bisogna dirlo. Cioè, quando nel nostro paese si dice che se vincerà quel partito lì arriverà il fascismo... No, no... E' chiaro che quel partito lì poi nessuno ci ha creduto neanche più a votarlo. Ma non è il... Vabbè... Io sinceramente... La Francia... La Francia... La Francia con il ministro che dice noi vigileremo il ministro. Ma perché sono soliti i cugini francesi. Il ministro. Il ministro. Sono soliti. Noi vigileremo. Ma pensa ai cavolacci tuoi. Pensa alle bougainville che hai. Pensa in quelle zone come vengono trattati, tra l'altro, uomini e donne facenti parte delle vostre colonie che continuate ad avere. Pensa come si comporta in Africa. Tra le altre cose. La Francia. La Francia. La Francia che ha dovuto intervenire Macron ha detto no ma è Mattarella giustamente ha detto vigilanza estera. L'Italia sa badare a se stessa. Ma tutto questo secondo il mio punto di vista vede una parte del paese, compreso oramai un ex segretario che spero torni in Francia. Luogo adatto per lui. Io gli ho dato tutta la fiducia. Che batte le mani a quanto dice la ministra francese. Ha capito... Gli ho dato tutta la fiducia ma... No, questo non inizia. Gli ha fatto male Shanspo. Tra popolo di ebrei e popolo italiano. Gli ha fatto male Shanspo. Ha capito? No, è inaccettabile quelle cose che... Ma poi l'hanno detto gli italiani votando. Hanno votato gli italiani. Guardi, lei ha visto... Inutile che dica che non c'è più simpatia per quella parte. Guardi, quando uno punta il dito nei confronti di un popolo, destra, sinistra, alto e sotto, si unisce e puntano il dito. Lei ha ascoltato una dichiarazione di qualche sinistro o qua o là. Dico sinistro per individuare la parte, no? Che sono per dire stai zitta o per cortesia, signor ministro, pensi alla Francia. Che noi sappiamo... Ma ha visto qualcosa questi sinistro? Pensi a come si comportano... Solo il capo dello Stato. Come si è comportato Macron in confronto dei gilet gialli che li ha pestati a sangue, eccetera, eccetera. Scusi... Non so chi è più autorevole o autoritario, bisogna dirlo, tra chi picchia in quel modo... Momento, momento, non è perché... Non è perché... Ho detto i gilet gialli, però li ha picchiati. C'è una legge? C'è una legge, caro il mio Cevolini. Sì, però... No, lei è un giurista? In Francia. Cioè, no, c'è una legge? La legge ti dice che tu non puoi oltrepassare la riga gialla? Tu lo oltrepassi e io ti legno. Però l'ordine pubblico si fa in un altro modo. No, no. L'ordine pubblico si fa in un altro modo. L'ordine pubblico si fa anche mettendo in condizioni le persone a rispettare la legge, non a non rispettarla, Cevolini. Noi abbiamo visto... Le forze dell'ordine sono... Sono dalla parte delle forze dell'ordine? Le forze dell'ordine sono state istituite per far rispettare la legge, non per fare i buonisti. Sono dalla parte di Pasolini che diceva che... I proletari veri. I proletari veri, erano i carabinieri che guadagnavano... No, sono più proletari. Non guadagnano tanto. Non guadagnano tanto. Però rischiano molto di più. Rischiano molto di più. Perché? Perché è meglio un funerale di Stato in Italia, dove tutti piangono lacrime di coccodrillo, che qualcuno, giustamente, sia messo in orizzontale perché non preva le scacole. Io conosco le situazioni proprio vicine, a fianco dei comandanti, che sono a fianco dei comandanti di queste cose, e mi dicono però che l'ordine pubblico, l'obiettivo è che si calmi la situazione. Non è insegnare a quelle persone che non la impareranno mai, che quando si dice una riga è quella. Allora facciamo come a Genova? No, a Genova. Cioè, distruggiamo Genova? A Genova sono successe delle cose... Ma scusi un attimo. A Genova sono successe delle cose proprio perché sono stati mandati delle persone che non erano pronte a fare bene il loro lavoro. D'accordo. E allora quel povero... Perché se si manda... E che ha sparato contro quello che... No, mi scusi. No, quello che ha sparato... Quel carabinieri... Aveva una persona che gli stava mettendo un estintore in faccia. Bene, quello che le gettava l'estintore in faccia. Sa che ha un'aula del Senato a suo nome. Ma è chiaro che non è giusto. Mi tolgo una curiosità. E quel carabinieri lì è stato scacciato dall'arma. Perché? Perché aveva fatto una figura non degna. Dai ragazzi. Io devo dire anche un'altra cosa. Che il padre di quello che poi è stato colpito dal carabiniere all'inizio aveva fatto delle dichiarazioni dove diceva non ho insegnato bene a mio figlio. Poi ha cambiato perché, mi dispiace ma a pensare male si fa peccato, ha cambiato perché gli è stata offerta una sponda, quasi un lavoro in pratica, quello di fare il padre della vittima. E così... Ha cambiato anche posizione. Non voglio... Mi dispiace dirlo. Non voglio... Il dolore è tremendo. Non voglio rinvangare, ma torno a ripetere. Oggi come oggi in questo paese fare la carabiniere, poliziotto, vigile urbano e guardia di finanza e anche rappresentare l'esercito non è facile. Ma lo so dell'interno questa cosa. Non è facile. Il mio fratello ha fatto il battaglione carabiniere nel battaglione Bologna e andava a fare ordine pubblico. Ecco, non è facile. Sappiamo molto bene le uova marce che si beccano in faccia e se altano il manganello... Cioè è subito pronto l'avvocato di turno con il telefonino. Posso dire una cosa? Io no. Allora, un giorno, siccome sono anche, come dire, un po' ero nella scia, nella scuderia di Fabio Alberto e Roversi Monaco. Roversi Monaco ha avuto l'idea a un certo punto quando gli hanno rioccupato metà Università di Bologna in centro. E gliel'hanno ridipinta con le scritte dopo che l'aveva rimessa a posto e è andato dal questore e dal prefetto ha detto No, ma adesso questa non la potete lasciare. Adesso lo sgomberate perché se no io vi attacco su tutti i fronti perché non potete... Al che, al che, al che, questore e il prefetto hanno detto va bene, sgomberiamo. Casualmente, casualmente, sono andati... Quel giorno il mio fratello era nel battaglione, aveva l'ordine di fare piazza pulita, che non hanno sempre, quasi mai, quest'ordine. Sono andati, c'è stata un po' di risposta, dopodiché i dirigenti, che sono sempre i figli di papà, i figli della borghesia bolognese, se ne sono andati via, sono rimasti quattro gatti, sciocchi, studenti universitari, magari del primo anno. Quasto! E questi hanno subito la carica, sono stati cacciati, menati, eccetera, eccetera. Scusi un attimo! Perché però quel giorno lì sapevano... Scusi un attimo! ...che sarebbe successo... Scusi un attimo! A Genova non avevano vietato le manifestazioni. La linea rossa. C'era la linea rossa. Allora, siccome loro erano già partiti con l'intenzione di fottersene... Ma c'erano i black bloc, i poveri manifestanti normali, si sono stati... E quelli arrivati da Venezia, che adesso fanno anche le organizzazioni, le ONG che trasportano i clandestini, non erano in testa al corteo per... Ma quelli sono un manipolo... Ma non me ne frega... Comandato da... Certo! Poi ci hanno rimesso, ovviamente, anche quelle famiglie che erano andate là... A manifestare normalmente... Con ideali seri. Ma se io sono in mezzo al caos e mi prendo manganellate, mi prendo salsate e quant'altro, lei mi capisce... Con i black bloc vicini. Che poi, quando mi dicono, vai, come gli hanno detto a suo fratello, e fai piazza pulita, non guardo in faccia a nessuno. Il problema è questo. E i gilet gialli, come hanno visto, hanno fatto tanto di quello... Poi quando hanno cominciato ad assaggiare sulla schiena le legnate, si è chiusa. Ma perché in Francia... Però... In Francia quando... Però non hanno aumentato l'anno di pensione. In Francia non hanno portato, come erano le intenzioni, la pensione ad un'età più alta, perché hanno visto che il popolo era sceso in piazza. Quello che non accade mai in questo paese... Però questi protestavano per... Ma il prezzo del gasolio. Adesso noi avremo il prezzo del gas folle, eccetera, eccetera. Sti poveri disgraziati protestavano per il prezzo del gasolio, perché vivevano lontano dal centro e gli incideva sulla vita. Ho capito. Si risolve quel problema politicamente e si elimina quindi il problema. Sì, ma tu non puoi però pretendere che il gasolio venga ridotto sfasciando, sfasciando... E allora se lei usa la violenza, io ho il diritto, dovere, come responsabile di un ministero o capo dello Stato, a usare altrettanta violenza nei suoi confronti. In Francia la usano, e anche in Spagna, anche in Germania. Lei va in Spagna, no? La usano, la usano, ma anche in Francia, anche in Germania. Perché in Inghilterra no? Eh, la usano. In Inghilterra non ci sono più i... come posso dire, i tifosi quelli, sai, di una volta, gli Ultras. Vado a fare le manifestazioni in Polonia, no? Ho visto io in Polonia, o in Russia, no? Ma già a Vienna, a Vienna, io ho visto due cose. Ah, vabbè. Manifestazione, dico una sola allora, manifestazione con dietro i turbini, che qualsiasi manifesto che era buttato per caso per terra, viene pulito. Ma le dico questa, una cosa che mi ha lasciato incredibile. circa una ventina d'anni fa, mi trovavo, anch'io, ero a, non a Vienna, a Monaco, a Monaco, vicino, guarda, mi ricordo ancora, al Museo Navale. C'è un museo bellissimo navale a Monaco. E c'era una corriera ferma, una corriera ferma, con dei poliziotti che stavano discutendo con questa corriera. Ad un certo punto c'è stata una macchina, un Mercedes, i primi Mercedes con i fari rotondi. Si ricorda una volta che erano quelli quadrati, quindi, sto parlando di una ventina di anni fa, e questo qua che suonava, e il poliziotto gli ha detto di attendere. Come nulla fosse, ha tentato di uscire il Mercedes, il poliziotto si è avvicinato con il manganello, gli ha tirato via una manganellata sul cofano davanti, e ho detto adesso scende, è ben fuori, abituato in Italia. Quello dentro, nemmeno si è scusato, è rimasto dentro in silenzioso, poi il poliziotto ha detto, vai pure, è andato con la maccatura, non è nemmeno sceso. Io sono rimasto scioccato. La differenza è questa, e allora noi andiamo ora in BK.